è un cane che ama molto giocare ma questo è stronzo non è aggressivo avvicinatevi è un cane che ama molto giocare anche in età avanzata è un cane che ama molto giocare anche in età avanzata gioca spesso anche da solo l'importante è che i giochi siano in peluche a tossico o in materiale non molle perché poi se ingeriti ho sbagliato allora gioca molto da qua? no è un cane che ama molto giocare anche in età avanzata gioca molto anche da solo l'importante è che i peluche siano a tossici o di materiale non... no devo leggere se no sbaglio allora sei tu, è il moto dietro no no ma che... andavi benissimo Stefania? è un cane che ama molto giocare anche in età avanzata gioca spesso anche da solo l'importante è che i giochi siano in peluche a tossico o in plastica non molle sta mordendo questo... via è un cane che ama molto giocare anche in età avanzata gioca spesso anche da solo l'importante è che i giochi siano peluche a tossici o in plastica non molle perché gli altri materiali se ingeriti sono dannosi per la sua salute la sua piccola taglia... e cos'è che ti dico? è una cosa? tu dici la moda ovviamente fanno sai dai vari gucci, prada e tutte queste cose per cani per la sua piccola taglia l'All Your Shire è facilmente trasportabile può viaggiare ovunque insieme al padrone con i comodi trasportini che si trovano in commercio omologati e dotati di comodi e colorati cuscini per la sua piccola taglia l'All Your Shire è facilmente trasportabile può viaggiare ovunque insieme al padrone con i comodi trasportini che si trovano in commercio omologati e dotati di comodi e colorati cuscini per la sua piccola taglia l'All Your Shire è facilmente trasportabile può viaggiare ovunque insieme al padrone con il comodo... ho sbagliato per la sua piccola taglia l'All Your Shire è facilmente trasportabile può viaggiare ovunque insieme al padrone con i comodi trasportini che si trovano in commercio omologati e dotati di comodi e colorati cuscini per la sua piccola taglia l'All Your Shire è facilmente trasportabile può viaggiare ovunque insieme al padrone con i comodi trasportini che si trovano in commercio omologati e dotati di comodi e colorati cuscini per la sua piccola taglia l'All Your Shire è facilmente trasportabile può viaggiare ovunque insieme al padrone... Anche le case di moda si stanno interessando ai nostri piccoli amici e questa è una cosa positiva l'importante è che i prodotti siano comodi anche per loro Soprattutto per loro... Siano comodi... YouTube trailer... судica... Siano comodi... ... Zitto...